ciao a tutti amici di avriai un salutone dal vostro green altra player review questa volta parliamo di antonio candreva international man of the match sempre su ultimate team world cup un giocatore davvero incredibile intanto la posizione in campo prima di tutto il resto è come coc io l'ho usato solo ed esclusivamente come attaccante perché perché abbiamo un work rate alto medio quattro stelle sul piede debole quattro stelle sulle mossa abilità invece che tre come in ultimate team normale 86 di velocità che è un 88 accelerazione con 86 di sprint ha un tiro ottimo veramente veramente ottimo perché abbiamo un 91 nei tiri della distanza 97 nella potenza tiro questo 69 di finalizzazione si sente veramente poco ragazzi veramente poco anche il colpo di testa a un 58 nel colpo di testa con un 60 di elevazione voi non avete idea di quanti gol di testa che ho fatto io fisicamente 74 di forza fisica 81 agilità 79 equilibrio 86 riflessi ha un controllo palla 89 89 anche nel dribbling per cui veramente quattro stelle abilità con questi valori qui è un attaccante se voi usate come attaccante veramente ottimo i passaggi anche quelli sono buoni e un 87 nei passaggi corti e un 78 nei passaggi lunghi ma come coc secondo me è sprecato l'ho messo come attaccante e veramente mi ha fatto i numeri ha anche un 86 nei tiri al volo abbiamo un 73 di aggressività 78 di posizionamento 83 nella visione di gioco per quanto riguarda magari i passaggi gli scambi c'è veramente ragazzi la prima cosa che ho fatto quando l'ho trovato da coc a t e da t a t t e la mi ha fatto veramente il devasto davanti work rate giusti può tirare sia di destro che di sinistro a 4 stelle skill per cui andate via di dribbling che è una cosa meravigliosa inoltre la statistica più merdosa che il colpo di testa mi ha fatto 3 4 gol come se nulla fosse per cui ragazzi veramente se lo avete su ultimate team work up mettetelo lì davanti io l'ho usato sia in un 4 3 3 che in un 4 4 2 affiancato ad un altro secondo me può rendere meglio con un'altra punta magari di peso magari che abbia proprio il colpo di testa come punto di forza però ragazzi veramente questo candreva qui è un mostro ricapitolando abbiamo detto velocità controllo palla dribbling 4 stelle piede debole 4 stelle abilità work rate giusti fisicamente forte un tiro dalla distanza della madonna passaggi ottimi le uniche cose negative possono essere i contrasti che come attaccante difensivamente non farà mai niente è colpo di testa ma non lo metto fra le cose negative perché mi ha fatto un sacco di gol consiglio vivamente di metterlo come attaccante ragazzi ovviamente soprattutto su questa review fatemi sapere se l'avete provato come attaccante cosa ne pensate lasciate un bel mi piace e come sempre signori stai barba stai qualità e ci vediamo al prossimo ciao belli Musica